Qual è la politica industriale? Siamo riusciti a cambiare perché oggi l'Europa mette al centro della propria politica economica la politica industriale, quindi sostegno all'industria e alle piccole e medie imprese e lo abbiamo fatto anche con investimenti importanti, 150 miliardi nel bilancio comunitario per sostenere tutti coloro che producono, quindi in comparti diversi utilizzando i fondi regionali, utilizzando i fondi destinati all'innovazione e alla ricerca e quelli per le piccole e medie imprese internazionali. Invece voi avete promosso nell'austerità in Europa, quali sono stati i segnali che voi come leader dell'Europa avete fatto? C'è magari tagli nei vostri benefici, nei vostri stipendi? Qual è stata la vostra risposta? C'è stata una riduzione degli stipendi di tutti i funzionari comunitari, quindi compresi i commissari, per quanto mi riguarda ho tagliato tutti i benefici durante i viaggi, tutti i viaggi di servizio vengono fatti utilizzando la tariffa più bassa per dare un segnale di disponibilità. Ma non è così che si risolvono i problemi, i problemi si risolvono cambiando la politica, ridurre la politica di austerità, concludere una stagione e aprire un'altra. Quella del sostegno alle imprese che sono quelle che possono creare posti di lavoro. Quindi secondo lei appunto anche dei fondi europei che saranno destinati alle nazioni, alle zone territoriali, sono un volano importante? Certo, è un volano importante, non sono la soluzione di tutti i problemi, però anche l'Italia deve avere la capacità di utilizzarli meglio e utilizzarli tutti. A Ascoli è stato fatto bene, la provincia ha lavorato molto bene, però è un problema generale quello italiano di non saper riprendersi tutto ciò che si dà.